l'area dell'innovation village mobeus offre la possibilità di un'esperienza virtuale venite a provare l'esperienza di diventare una tartaruga un paguro o un corallo ma attenzione a non mangiare sacchetti di plastica. Salve, siamo Moebius, siamo qua perché abbiamo vinto la call for innovation lanciata dal comune di Genova in collaborazione con il due district e noi abbiamo realizzato un portale sul turismo sostenibile utilizzando il software che abbiamo sviluppato col dipartimento di ingegneria dell'informazione della matematica insomma dell'università di Siena per andare a fare emergere tutte quelle buone pratiche e le realtà del settore turistico e sportivo che hanno a che fare con le attività che il cittadino e il turista può fare legate al mare, vale capire a queste strutture come queste buone pratiche vanno a distribuirsi sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU che sono appunto i famosi obiettivi dell'agenda 2030. Noi ci occupiamo di sostenibilità, di circolarità, utilizziamo la tecnologia blockchain anche nelle nostre attività consulenziali e qui abbiamo portato delle esperienze che vogliono andare a coinvolgere i visitatori nell'approfondimento di che cosa sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile e in particolare l'abbiamo fatto utilizzando un tavolo interattivo su cui si può navigare e anche un'esperienza immersiva in realtà virtuale utilizzando appunto un gioco di realtà virtuale che MIPTE che in collaborazione con il Politecnico di Milano e con un centro di ricerca marina che è nato per sensibilizzare e formare le persone sugli impatti del cambiamento climatico di una barriera corallina. Quindi l'utente si immerge nella barriera corallina, diventa o un corallo o una tartaruga o un paguro e vive l'esperienza che vive l'animale, quindi può mangiare tranquillamente ciò che è buono e quindi pesci, meduse, deve riuscire a capire che cosa scartare. Questo a volte non succede, infatti nel gioco la difficoltà è capire se sta mangiando una medusa o una busta di plastica e la sensazione è data dalla tecnologia che è stata applicata a questo gioco di realtà virtuale che appunto restituisce una sensazione che permetta all'utente di capire se può essere un qualcosa da mangiare o se va scartato.